Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Stefano D'Amore. Cari amiche e cari amici, ci ritroviamo dagli studi di Radio Beckwith per questo momento di culto, in questa domenica, che è anche una domenica che le nostre chiese dedicano alla SEVA, la comunità di chiese in missione. Vogliamo iniziare invocando la presenza del Signore in mezzo a noi. Da dove vieni, sorella mia, fratello mio? Vengo lontano da te, dal Camerun, dall'Italia, dalla Svizzera, dal Togo, dalla Nuova Caledonia, eppure così vicino a te, dalla stessa famiglia di Cristo dispersa sulla terra. Fratello, sorella, questa unità in Cristo costituisce la nostra eredità. Lasciataci da fratelli e sorelle che ci hanno preceduto, è un'eredità di amore che ci lega al Padre e al Figlio, un'eredità rinnovata nello Spirito Santo. È un amore che ci spinge ad annunciare al mondo che Dio si dà per tutte e per tutti noi e che questo ci rende la sua famiglia. Fratello, sorella, questa eredità è per noi, per tutte e per tutti e desideriamo che porti frutto in mezzo alle minacce, alla paura, alla violenza delle armi, in mezzo alle ideologie alienanti e ai poteri dell'oppressione. Noi proclamiamo che tu, Signore, sei il nostro Dio e noi vogliamo servire te, i tuoi fratelli e le tue sorelle. Fratello, sorella, riconosciamo la sua presenza in mezzo a noi, il nostro canto, il nostro incontro, la nostra vita insieme sono nel nome del Signore che ci ha chiamati, che ci conosce, che ci invita all'incontro e ci stimola al cambiamento. Amen. Ascoltiamo insieme il Salmo 98. Cantate al Signore un cantico nuovo, perché egli ha operato prodigi. La sua destra e il suo braccio santo l'hanno reso vittorioso. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate il Signore, abitanti di tutta la terra, date in canti di gioia e di lode. Salmeggiate il Signore con la cetra, con la cetra e la voce del canto. Con trombe e al suono del corno acclamate il Re, il Signore. Risuoni il mare e quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme i monti davanti al Signore. Poiché egli viene a governare la terra, egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. E ci raccogliamo ora in preghiera. Signore, nulla, nessuno resiste quando tu ci incontri con la tua gioia, l'amore, la passione di cui sei capace. Mari, fiumi, montagne, uomini, donne, vecchi bambini, conosciuti e sconosciuti, tutte e tutti veniamo avvolti dal tuo modo di essere che non ci lascia indifferenti e che ci trasforma. Quando ti invochiamo, ti cerchiamo, ti riconosciamo, tutto acquista un senso nuovo e la nostra quotidianità si tinge dei colori giusti, quelli della tua giustizia e del tuo progetto di vita e di dignità per ogni creatura. Quando tu ci incontri non possiamo rimanere indifferenti e siamo colpiti dal dono che ci hai fatto di te, mandando tuo figlio. Da allora non sei più un Dio lontano, difficile da raggiungere, ma sei il Dio che vive con noi, come noi, nelle nostre giornate, nelle nostre gioie e nelle nostre tristezze. Questa tua Chiesa ti ringrazia. Insieme ti siamo grati per ciò che ci hai donato nel passato e che ancora vorrai donarci. Amen. Lode all'Altissimo, lode al Signor della gloria. Nelle dei secoli noi celebriam la vittoria. O su cantiamo, creduti insieme, giubiliam, in terra e cielo adoriamo. Lode all'Altissimo, lode all'Altissimo, lode all'Altissimo, lode all'Altissimo, lode all'immenso creato. Sovra di Nati la salvi noi tutti apportati. Vieni il sostegno, poiché ad ognuno conviene di camminare col suo aiuto. L'odio gratissimo re della grazia infinita, tutto è di donarci, forza, benessere e vita. Non è il dolore, non ci abbandona il Signore, che il mondo in Cristo ha salvato. Leggiamo dall'Evangelo di Marco al capitolo 7, i versetti da 24 a 30. Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poter restare nascosto. Anzi, subito, una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, aveva udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le disse, lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Sì, signore, e la rispose, ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. E Gesù le disse, per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia. La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina correcata sul letto. Il demonio era uscito da lei. Care sorelle, cari fratelli, Gesù è stanco. Dopo la discussione con gli scribi, con i farisei, dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù è stanco. Dopo aver guarito i malati, camminato sul mare, Gesù ha bisogno di stare un po' da solo, o perlomeno solamente con alcuni, con i suoi amici, i suoi discepoli. Decide addirittura di andare in terra straniera, nella regione di Tiro, e non vuole farlo sapere a nessuno. Ma sembra che non sia facile restare in incognito. La sua fama lo accompagna, lo precede. Nei versetti che vengono subito prima, quelli che abbiamo ascoltato, Gesù aveva detto, Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui lo possa contaminare. Ciò che entra nell'uomo dal di fuori non lo può contaminare perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina. Sono invece le cose che escono dall'uomo, quelle che le contaminano. Allora, con queste parole Gesù aveva fatto qualche cosa di forte, di particolare. Aveva battuto in qualche modo la barriera tradizionale tra il puro e l'impuro. Aveva demolito la base del pensiero per cui determinate cose, determinate persone, anche solo per il fatto di starti vicino, possono trasmetterti impurità. E aveva puntato invece il dito su ciascuno e su ciascuna di noi, sul fatto che l'impurità, il peccato, la malvagità sono in agguato, non fuori, ma dentro di noi, e che siamo in qualche modo noi a produrre. Forse anche per questo motivo Gesù, senza difficoltà, ci racconta Marco, per cercare riposo va in una terra straniera, impura, entra in una casa straniera. E qui il nostro testo ci offre un incontro, certamente molto particolare. Si avvicina infatti un personaggio, una donna, straniera, sul piano religioso, perché pagana, sul piano geografico, perché sirofenicia. Una donna impura, secondo la legge mosaica, che per di più aveva nella sua casa uno spirito impuro che possedeva sua figlia. Ecco, la sua azione, l'azione di questa donna, genera, che è un'azione molto audace, genera una reazione che mai ci saremmo aspettati da Gesù. Quest'uomo che noi pensiamo avrebbe dimostrato comprensione, avrebbe dimostrato apertura. Lui che aveva già guarito uno straniero poco prima, come l'indemoniato della Decapoli, sembra quasi faticare ora a entrare in dialogo, in empatia con questa donna. Lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Questa risposta ci sorprende, ci sciocca. Gesù tratta la donna con durezza, quasi con disprezzo. Come ci saremmo sentiti noi nei panni di questa donna, tutte le speranze riposte sembrano crollare. Prima i figli di Israele, gli eletti, poi se ne avanza qualche cosa, allora anche gli altri. A questo punto il racconto potrebbe finire con una scena di scuse da parte della donna e chiusa la questione. Ma la donna non si arrende. La sua disperazione non le permette di arrendersi. Diventa ancora più audace dalla sua posizione di inferiorità, di genere, di nazionalità, di religione, e risponde. E risponde con due argomenti. Chiama Gesù Signore e quindi riconosce la sua missione, la sua messianicità. Ed è la prima volta, tra l'altro, che nel racconto di Marco Gesù viene identificato con questo titolo da qualcuno. Una confessione di fede, che trasforma subito il dialogo e che pone lei stessa in questo dialogo su un piano diverso, di fiducia. E poi, forse ancora più audace, fa notare a Gesù che la salvezza che da lui viene distribuita sopra il tavolo, potremmo dire, indipendentemente dalla consapevolezza di Gesù, arriva anche quelli che stanno sotto, che stanno in attesa delle briciole, che sono così disperati a volte da accontentarsi di quel poco che però per loro è già tanto. E dunque sostiene, lei, straniera, pagana, che la grazia è sufficientemente abbondante per tutti e per tutte. Un fulmine per Gesù, che non solo sente una vera confessione di fede da parte di questa straniera, ma che si vede ribaltare quello che forse finora era stato il suo punto di vista. E infatti non c'è un tempo di attesa. La risposta arriva subito ed è molto diversa dalla precedente. Per questa parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Forse le parole di questa donna sono andate a segno più di quanto si aspettasse. Forse è proprio una voce che arriva da fuori, da distante, da un'esclusa, ha in qualche modo raddrizzato, bonificato il cammino del Messia. Senza dubbio ha avuto un'influenza. Allora, chissà che ancora una volta il miracolo non sia solo la guarigione fisica della figlia, ma l'insieme di tanti aspetti. Forse è il dialogo stesso, la possibilità di un incontro tra due mondi differenti, distanti, che non si sarebbero mai nemmeno dovuti incrociare. È questo stesso un miracolo. Questo è certamente il racconto di un incontro che trasforma. E ne usciranno cambiati non solo la donna, non solo sua figlia, ma pure Gesù nella comprensione di se stesso e della sua missione. Un Gesù che si converte? Beh, certamente possiamo parlare di un Gesù che scopre, di un Gesù che impara. La buona notizia non è per pochi eletti, ma sovrabbonda. Esce dai confini che noi stessi le diamo, è più forte di chi la porta, di chi l'annuncia, è più forte persino di chi la incarna. Dio, il compassionevole per eccellenza, incarnato nell'essere umano, anche lui deve imparare. Deve imparare la compassione e l'amore tra gli esseri umani. Perché evidentemente non è una cosa scontata, non è una cosa semplice. La donna, nella sua distanza, aveva capito Gesù meglio di altri. Il suo coraggio permette a Gesù di essere ciò per cui era stato mandato, di scoprire ancora meglio se stesso, la propria identità, la propria vocazione universale, la propria divinità. Nell'ascolto di una parola scomoda e lontana, scopre quello che è già. Quando meno lo prevede, quando stanco cerca un attimo di relax. Dove sta il miracolo? Solo nella guarigione della figlia? Forse c'è di più. L'ascolto reciproco produce la conoscenza reciproca, l'accettazione reciproca, la conseguente trasformazione reciproca e tutto questo insieme produce il miracolo. Cerco di non fermarmi solo al lieto fine di questa storia e mi chiedo che cos'è che permette il miracolo? Beh, il fatto che Gesù dica la frase il demonio è uscito da tua figlia. Sì, certo, ma perché dice così? Perché c'è una donna che non si arrende, ma insiste con coraggio, superando anche le norme relazionali imposte nella sua ricerca di vita. Sì, ma perché questa donna si comporta così? Perché non può altrimenti? E' spinta dalla situazione tragica che sta vivendo e dunque dà voce a quella propria tragicità. Sì, ma perché lo fa? Perché sa di avere di fronte un interlocutore speciale che nonostante tutto, anche nonostante la prima risposta, sarà in grado di comprendere, riuscirà ad andare oltre e non resterà insensibile, lei ne è sicura, al bisogno e alla fiducia che lei porta con sé. Ma perché può farlo? Perché può avere questa fiducia e gettarsi ai piedi di Gesù? Perché, ci dice il testo, aveva udito parlare di lui. Aveva udito parlare di lui. Da qui, in fondo, nasce tutto. Da qualcuno che ha raccontato, da qualcuno che ha ascoltato, da una testimonianza ricevuta, da una voce sentita, da un passaparola riuscito. Oggi è la domenica che le nostre chiese dedicano alla Seva, una comunità di chiese protestanti in missione, 35 chiese in 24 paesi del mondo, dall'Africa all'America Latina, all'Europa, all'Oceano Indiano e Pacifico, una comunità che appunto mette al centro la testimonianza e l'azione nella diversità, grazie alla diversità. Ecco, nella Seva, il sentirsi straniero, l'attraversamento del confine, sono cose necessarie, fisicamente e simbolicamente. Ma prendere tutto questo seriamente vuol dire anche avere la possibilità di udire parlare di Lui in forma inedite e farsi guidare in un cammino di trasformazione. Per questo vorrei concludere e vorrei proporvi per la conclusione le parole della diacona Nita Tron e della sua esperienza. Nella Seva, come in tutte le comunità, ci sono doni e vocazioni diverse, su cui ci si confronta, a volte anche animatamente, ma con lo scopo di capirsi, di approfondire, di riconoscere e vedere i diversi punti di vista e le diverse visioni su ciò che bisogna fare, intraprendere, per testimoniare oggi l'amore di Dio per la sua creazione. Ascoltando, osservando, partecipando insieme agli altri e alle altre, io mi sono sempre sentita a casa, anche a migliaia di chilometri di distanza. Mi sono sentita accolta, ho avuto la possibilità di esprimere la mia opinione e le mie differenze di vedute quando c'erano, senza sentirmi esclusa o giudicata. Aiutare a costruire per migliorare la qualità della vita di ognuno e ognuna si può. Se ci si sa ascoltare, se si parte dai bisogni reali anziché dalle nostre visioni, dalle nostre idee, spesso così lontane dalla realtà, se ci si apre all'ascolto dei bisogni, ad accogliere anche quei progetti che sembravano irrealizzabili. Invito tutte e tutti a conoscere e ad impegnarsi nella se va. Fa del bene al cuore e alla nostra fede personale e fa bene alle nostre chiese in ogni angolo di questo paese. Amen. Grazie a tutti 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 Signore, dacci umiltà e desiderio di ascoltare la voce di chi c'è vicino e di chi c'è lontano Dacci forza e coraggio per usare la nostra voce, con gioia e con giustizia Dacci capacità di dare voce ai dolori nostri e degli altri, di non arrenderci al primo ostacolo, di essere sinceri e insistenti se necessario, anche e soprattutto con te Dacci pazienza per resistere contro il male del mondo Dacci di riconoscerlo senza farci distrarre dalla propaganda intorno a noi Dacci di discernere tra chi lo compie e chi lo subisce Dacci di fermarci per non diventare carnefici in nome tuo o di chi ti vorrebbe rappresentare Dacci di rimanere umani tra gli umani e mai macchine cieche esorde l'umanità altrui E se la nostra resistenza ci sembrerà vana Dacci di ricordare che la tua gloria e la tua potenza di trasformazione vanno oltre il nostro orizzonte Ti preghiamo nel nome di Gesù che ci ha insegnato a dirti Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà In terra come fatta nei cieli Dacci oggi il nostro pane quotidiano Rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori Non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal male Tuo è il regno, la potenza e la gloria Nei secoli dei secoli, Amen La pace e la benedizione di Dio sono sopra di noi In noi, fra di noi Nella nostra quotidianità Dio ci invia a lavorare con ostinazione Alla difficile rimozione di pregiudizi, di preconcetti che impediscono l'incontro Dio ci invia a costruire delle passerelle perché al di sopra dei fossati dei rancori Le mani e i cuori si rincontrino in un dialogo rispettoso Dio ci invia a rimettere in sesto le strade che collegano gli esseri umani fra di loro Perché possiamo percorrere sentieri di cura, di amore e di trasformazione Amen Avete ascoltato il culto evangelico valdese La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Stefano D'Amore Grazie 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 Grazie